finalmente finalmente è arrivato è arrivato il mozzo posteriore dopo tutti questi tentativi guardate le scatole coperto guardate quanti mozzi ultegra anteriori mi ha spedito il venditore bei dalla germania dopo tutti questi tentativi ha capito che io volevo comprare il posteriore il posteriore si è sbagliato non una non due non tre ben quattro spedizioni ci sono volute per capire che io volevo il mozzo posteriore comunque questi mi è andato anche bene perché me li ha regalati questi dove si è sbagliato io li ho pagati due e li ho presi quattro questi si è sbagliato di continuo io avevo coordinato questi due e invece mi ha mandato due mozzi anteriori poi ha detto che aveva capito allora mi doveva spedire il posteriore invece me lo ha mandato un altro anteriore e al terzo tentativo c'è riuscito questo ragazzi un record del mondo un record del mondo di errori su ebay oh 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 sounding Grazie a tutti.